Ciao Leonora! Ciao Yores! Raccontiamo perché abbiamo scelto proprio di fare una vacanza yoga and surf quest'anno. Abbiamo scelto di fare una vacanza yoga and surf proprio perché ha tutti gli ingredienti essenziali per quello che è l'esigenza di rallentare per gioire. Che direi è anche un po' quello che serve a noi. Per primis! Perché un surf camp? Dunque perché il glamping ci permette di stare in un posto immerso nella natura dove arrivano persone da tutto il mondo. Oltretutto sarà appunto possibile sperimentare un'attività che per molti di noi è nuova e insolita come quella del surf. Ti faccio solo un'ultimissima domanda. Perché insistiamo tanto sulla bellezza di essere principianti? Perché ci facciamo così tremendamente carico ogni giorno di quell'aspettativa feroce e un po' quell'atteggiamento performante che ormai abbiamo con tutto nei confronti della vita e nel quotidiano che finalmente il tornare ad essere principianti ci fa tornare ad essere liberi.